Non mollino i giocatori, ai quali in verità sono state date più patenti da scarsi che alibi Non lo facciano se vogliono andarsene o se vogliono restare, perché la gioventù è bella ma breve come la carriera Non la buttino via, non molli la società, i comandanti nella tempesta devono cercare un approdo sicuro per i passeggeri Per noi che, aspettando il futuro, non meritiamo questo presente incerto e cupo Si può sopravvivere senza il quarto posto e affrontare un nuovo inizio, se non ci si suicida in massa Questo, almeno, risparmiatecelo Punto 19 marzo 2019, 9 un quarto diritti d'autore riproduzione riservata